Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. Il dolore ha colpito nel cuore della community di TikTok quando la stimata madre influencer, nota per i suoi post su libri e pensieri personali, ha condiviso una realtà straziante, attirando l'attenzione di una miriade di fan. Il famoso social media, celebre per i suoi video vari ed eclettici, ha recentemente visto un post che ha infranto il cuore di molti. La protagonista della nostra storia, tristemente, ha annunciato qualcosa che nessuna madre dovrebbe mai affrontare, la morte improvvisa del suo bambino di due anni. La tragica rivelazione è stata fatta dalla celebre TikToker Mercedes White, che ha scelto di raccontare la sua perdita in un video commovente. L'incertezza avvolge le cause esatte del decesso del bambino, ma si ipotizza un arresto cardiaco. Mio figlio è morto stamattina e non riesco a capire il perché, ha confessato, sopraffatta dal dolore. Ha avuto un arresto cardiaco. Eravamo diretti all'ospedale e la situazione è peggiorata rapidamente. Era il mio tutto, ha espresso Mercedes nel video, l'unico figlio che avevo, e ora è partito. Non riesco a comprendere questa perdita. Fin dal primo giorno, ha dormito con noi, l'ho accudito ogni notte. Ancora attendo i suoi dolci calci mentre dorme. Il dolore di perdere un figlio è indicibile, specialmente quando si tratta di un piccolo di soltanto due anni. La tragedia appare ancora più profonda. Mercedes non ha specificato le esatte cause del decesso, ma si sospetta che il bambino potesse avere una patologia cardiaca congenita, rimasta finora ignota. E tu cosa ne pensi di questa vicenda? Scrivilo nei commenti. E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.